Buonasera Frank Buonasera Allora, dicci qualche commento a caldo di questo tuo concerto Devo dire, accoglienza direi ottima Poi a livello di amici, devo dire dieci Sono contento di essere qui con voi Dopo il mio concerto Siete degli amici per me fantastici E vi voglio un mondo di bene Davvero, detto col cuore E spero che tutto questo venga messo su Facebook In modo che almeno è più veritiero Poi come dire Inquadriamo l'amico da dieci e l'olio Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti